Aveva 48 anni Giampaolo Careddu, la vittima dell'incidente, il secondo in ordine di tempo, che si è verificato ieri pomeriggio lungo la A12. Attorno alle 15.30, fra Deiva Marina e Sestri Levante, una Fiat Panda di Enel con a bordo due persone è andata a schiantarsi contro un auto articolato, spinta con ogni probabilità da una betoniera che l'ha tamponata. Le due persone che si trovavano all'interno dell'auto, due uomini dipendenti Enel, hanno subito gravissimi traumi. Careddu, figlio del maresciallo dei Carabinieri Salvatore, che ispirò Mario Soldati per i nuovi racconti del maresciallo, è stato colpito da un arresto cardiocircolatorio. Il personale del 118 della Spezia ha tentato la rianimazione sul posto, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Il collega, un uomo di 52 anni, è stato trasportato in codice rosso al San Martino di Genova. Intubato e sedato, ha riportato un trauma cranio-facciale con frattura dello zigomo sinistro, sarà operato e resta sedato. La dinamica del gravissimo incidente sembra collegata, a quanto accaduto circa un'ora e mezza prima, attorno alle 14, quando fra Sestri Levante e Lavagna, in direzione Genova, nella Galleria Sant'Anna, secondo la ricostruzione diffusa dai vigili del fuoco, un furgone blindato porta valori ha tamponato un'autovettura e si è ribaltato su un fianco. I conducenti dei due mezzi hanno perso i sensi e sono stati estratti dalle lamiere grazie all'intervento dei pompieri. Trasportati all'ospedale San Martino, uno con l'elicottero e l'altro con l'ambulanza, sono in condizioni stabili. Non è escluso che la coda che si è formata in autostrada a seguito del primo incidente abbia causato il secondo. Di certo, la chiusura del casello di Sestri prima e di quello di Deiva poi ha causato il blocco del traffico anche sulla viabilità ordinaria, da Casarza Sestri fino a Cavi e Lavagna. L'autostrada è stata riaperta dopo oltre tre ore dagli incidenti, ma per smaltire le code ci sono volute altre due ore circa.